Riferendosi alle condizioni fisiche Alexis Sanchez, cui stato scritto e parlato molto tempo nelle ultime ore, Eduardo Berizzo, CT del Cile, ha categoricamente negato che lo storico R. Roja soffra anemia. Come riportato erroneamente da alcuni media lunedì scorso hanno sostenuto un esame dopo quale l'attività fisica alcuni giorni non è stata raccomandata. Ora il giocatore informa chiarimento del selettore abbiamo dovuto aspettare qualche giorno. Averlo disponibile. Ora lo è a cento grave in perfetta condizione la partita Tetumorro contro la Colombia. Non soffre affatto di anemia. La sua situazione clinica ha avuto una buona evoluzione così tanto che è tornato da noi. Alla luce di queste dichiarazioni. Non si deve affatto escluso Nino Maravilla, inizi come un antipasto nella partita contro i caffeteri. Di Juan Quadrado che oggi. Per record. Si è allenato regolarmente in gruppi dopo piccolo problema, lo aveva fermato contro Venezuela. Grazie. Grazie.